Prendiamo in considerazione in questa lezione i romanzi e le novelle di D'Annunzio. Cercheremo di mantenere quella scansione cronologica in quattro fasi che abbiamo già preso in considerazione precedentemente. Il quadro che fa da sfondo la lezione è un dipinto di un esponente della scapigliatura, ovvero di Tranquillo Cremona. Partiamo quindi dalla prima fase della produzione di D'Annunzio. La prima fase in narrativa è caratterizzata dalla presenza di novelle, raccolta di novelle. Esce nel 1882 la prima raccolta di novelle di D'Annunzio che si intitola Terra Vergine. Il modello di questa raccolta è senz'altro il verga di vita dei campi, che sappiamo bene essere stato pubblicato nel 1880. Tuttavia Terra Vergine non è affatto una raccolta di novelle veriste. La vicinanza verga si percepisce soprattutto nella presenza di personaggi dominati fortemente dalle passioni, così come poteva essere ad esempio una nedda, e nell'ambientazione rurale di queste novelle. La differenza però sta nel fatto che l'ambientazione è abruzzese, mentre le novelle vergiane erano ambientate in Sicilia, come ben sappiamo. Tuttavia non sono novelle veriste, innanzitutto perché manca totalmente l'indagine sui meccanismi della lotta per la vita. L'indagine che sappiamo bene è essere fortemente presente all'interno delle novelle di Verga, così come lui esplicita nella prefazione dell'amante di Gramigna, e come esplicita nelle varie lettere destinate agli amici letterati. E poi perché manca completamente il canone dell'impersonalità vergiana. Anzi, il narratore, in qualità appunto di D'Annunzio, è fortemente presente all'interno delle sue novelle, con la sua soggettività, e quindi comunque dà vita a quelli che sono i suoi giudizi, sui personaggi, sull'ambientazione e su tanti altri aspetti. In primo piano, all'interno di queste novelle, ci sono le passioni primordiali dei personaggi, quindi delle passioni feroci, delle passioni ferine, quindi quasi animalesche, e quindi la forte sensualità dei personaggi. E i personaggi sono ambientati all'interno di una natura che è fortemente selvaggia, quindi rigogliosa ma anche selvaggia. Le altre raccolte di novelle prenderanno poi il titolo di Libro delle Vergini e poi San Pantaleone, e saranno poi tutte riunite nel 1902 nella raccolta intitolata Le novelle della Pescara. Per quanto riguarda invece la poesia, questo primo periodo è caratterizzato da una ripresa di forme legate al poeta Carducci, e la raccolta si intitolerà Canto Novo. Passiamo al secondo periodo della produzione d'Annunziana. Il secondo periodo è caratterizzato dal cosiddetto estetismo, quindi dal culto estremo per la bellezza, per il bello, per l'arte. Una bellezza sentita come unico vero valore, quindi al di là e al di sopra di qualsiasi connotazione morale. Il piacere di D'Annunzio esce nel 1889 ed è appunto un romanzo pienamente decadente. La vicenda del piacere è ambientata a Roma, nella Roma di fine secolo, quindi comunque è contemporanea, è ambientata negli stessi anni in cui D'Annunzio compone l'opera. Chi è il protagonista di questo romanzo? È Andrea Sperelli. Andrea Sperelli è un nobile, proveniente da un'antica famiglia appunto di stirpe nobiliare, ed è un giovane che vive d'arte, vive all'interno del lusso, e è tutto preso proprio dall'amore per l'arte, e si circonda di tutto ciò che possa ricordargli il bello, il bello assoluto. Il romanzo si apre con Andrea Sperelli, che si trova nella sua dimora a Palazzo Zuccari a Roma, al centro di Roma, e sta aspettando la sua amante Elena Muti. In realtà è la sua ex amante, perché tra i due è avvenuto un decidium già da qualche tempo. E quindi da qua il narratore prende spunto per ricostruire a ritroso, attraverso un lungo flashback, la vicenda dell'innamoramento tra Andrea Sperelli ed Elena Muti, il loro amore tormentato, e anche, diciamo così, il loro allontanamento, il loro distacco, che a quanto pare, insomma, non è definitivo. Elena Muti, nel frattempo, insomma, si è legata ad un altro uomo. Andrea Sperelli, dopo l'allontananza, dopo l'allontanamento di Elena, ha avuto molte altre storie sentimentali e, tra l'altro, ha subito anche un ferimento in un duello da parte di un marito, che era stato appunto tradito dalla moglie, che aveva avuto una relazione con Andrea Sperelli. Una volta ferito, appunto, in questo duello, Andrea Sperelli si rifugia in una villa di sua cugina, Schifanoia, per farsi curare. E proprio qui incontra un'altra donna, che è Maria, Maria Ferres, che è moglie di un ministro godemalteco, la quale, e Maria Ferres, diciamo, incarna proprio la donna moralmente ineccepibile, quindi la donna comunque sensibile, la donna che ama l'arte e quindi è una donna da cui, appunto, Andrea Sperelli si sente fortemente attratta, proprio perché rappresenta la, diciamo, tutti gli aspetti che Elena Muti non aveva, quindi è esattamente, insomma, l'anti-Elena. Sperelli cerca in tutti i modi di avvicinarsi a questa donna e di sedurla. In realtà è attratto ancora da Elena Muti e nella sua fantasia vagheggia proprio una trasposizione dell'una nell'altra e fondamentalmente è come se esistesse una terza donna che potesse accomunare tutte le caratteristiche di Maria e di Elena, quindi la perversione di Elena e la purezza di Maria. Alla fine Maria Ferres cede alle, diciamo, offerte amorose di Andrea Sperelli innamorandosi perdutamente di lui, ma proprio nell'amplesso finale Andrea pronuncia il nome di Elena e qui, diciamo, finisce la loro storia. Si tratta di un romanzo che è stato definito un romanzo psicologico perché affonda proprio, diciamo, nella psicologia del personaggio di Andrea Sperelli che è così combattuto tra le due donne e soprattutto è un personaggio che nonostante dia mostra di grande sicurezza nonostante dia mostra quindi di grande lusso e di grande sperpo è tuttavia un personaggio che risulta sconfitto. Possiamo quindi dire che il romanzo si conclude con la sconfitta di questo esteta decadente perché appunto non è riuscito ad ottenere ciò che voleva ma si trova poi profondamente solo nonostante, insomma, il lusso, gli agi e la bellezza di cui si circonda. Ricordiamo brevemente, prima di tornare al piacere, che per quanto riguarda la poesia questo secondo periodo della produzione dannunziana è caratterizzato da due grandi raccolte poetiche che si intitolano l'uno l'isotteo e l'altro la chimera. Torniamo quindi nuovamente al piacere. È un romanzo, ripeto, psicologico, a sfondo realistico perché riproduce un'ambientazione e uno spaccato della Roma del tempo, della Roma degli anni Ottanta, dell'Ottocento. Tuttavia non è una rappresentazione d'ambiente quindi non è affatto un romanzo che potrebbe essere inquadrato nell'averismo o comunque nel naturalismo francese perché comunque l'ambientazione è una diretta, diciamo, espressione di quelle che sono le caratteristiche poi dei personaggi. Quindi di fatto l'ambientazione lossuosa è una modalità con cui dannunzio può introdurci all'interno della psicologia dello stesso Andrea Sperelli e quindi è una modalità con cui si presenta il protagonista. Quindi possiamo dire che la descrizione dell'ambiente non risponda ad esigenze realistiche ma al contrario sia funzionale a mettere in evidenza l'egotismo del protagonista Andrea Sperelli ovvero l'esaltazione dell'io di quest'uomo. Senz'altro Andrea Sperelli riflette moltissimo le caratteristiche di Dannunzio stesso quindi gli ideali un po' di grandiosità che Dannunzio coltivava da tempo e in un certo senso autore e creatura per molti aspetti coincidono. Andrea Sperelli a tutti gli effetti è un eroe decadente quello che potremmo definire un dandy così come sarà il protagonista del romanzo di Oscar Wilde Dorian Gray così come è stato Desi Sand che è il protagonista invece di Arebo che è l'opera invece di Wisman da cui sia il ritratto di Dorian Gray sia il piacere di Dannunzio originano. Senz'altro la storia di Andrea Sperelli è la storia di un fallimento esistenziale perché comunque Andrea Sperelli rimane sconfitto dalla vita rimane proprio profondamente solo. Senz'altro Andrea Sperelli anticipa i personaggi che poi rappresenteranno appieno questa crisi dell'eroe decadente. L'estetismo dannunziano ricordiamolo ancora una volta è una modalità con cui il dannunzio mette in evidenza questo isolamento del protagonista. Quindi l'esteta è un personaggio che comunque si ritrae dalle masse si differenzia dalle masse ma ripeto in dannunzio appare comunque sconfitto. Andiamo brevemente a ripercorrere la vicenda invece del protagonista del romanzo Arebo di Desi Sand. Il romanzo Arebo compare a Paigi nel 1884 ed è opera di Wisman. Dicevo che è un romanzo che fa da modello sia ad annunzio sia poi a Oscar Wilde. Il romanzo di Oscar Wilde infatti compare l'anno dopo il piacere quindi compare nel 1890. Il protagonista di Arebo è Desi Sand che è un duca quindi anche lui è un personaggio aristocratico è una personalità eccentrica che dopo aver avuto una vita piuttosto sregolata decide di allontanarsi dalla massa quindi anche lui è un esteta decadente e decide di barricarsi nella sua casa di Fontenois appena fuori Parigi e qui cerca di vivere a rovescio, a ritroso. Questa è infatti la traduzione del titolo Arebo significa appunto a ritroso. A ritroso in che senso? Nel senso che lui farà tutto ciò che è contrario alle regole alle regole morali della borghesia alle regole del perbenismo borghese ma a un certo punto dovrà affermarsi per una malattia fisica e psichica che comunque lo sta colpendo lo sta minando e quindi non potrà più portare avanti questo esperimento diciamo così. Ora la personalità di Desi Sand non è descritta in maniera diretta ripeto non è un romanzo naturalista francese è un romanzo decadente e quindi Desi Sand viene descritto attraverso gli oggetti che lo diciamo lo connotano in qualche modo viene descritto attraverso i suoi comportamenti attraverso i gusti diciamo che emergono quali sono gli oggetti più importanti di cui si circonda la biblioteca ad esempio i quadri ricorderemo per esempio il quadro di Salome che è una figura di donna diciamo sensuale che rappresenta un po' un simbolo della donna fatale del decadentismo le belle donne di cui si circonda i pittori i fiori di cui la sua casa è piena le pietre preziose i profumi tutti aspetti che quindi non fanno altro che confermare il suo buon gusto e quindi diciamo che gli oggetti in realtà sono una proiezione di se stesso quindi attraverso gli oggetti viene descritto e connotato Desi Sand sono due le tematiche prevalenti in questo romanzo da un lato la chiusura dall'altro l'artificio la chiusura perché? perché l'eroe decadente l'esteta decadente si difende dal mondo e se ne separa perché si sente superiore però anche in un certo senso perché non vi si sente integrato l'altro importante tema invece è l'artificio questo perché? perché l'eroe decadente che non riesce a vivere la realtà contemporanea oppone a questa realtà in cui non si riconosce la fantasia e l'immaginazione che permettono di rendere possibile qualsiasi tipo di esperienza sensoriale gli voglia fare torniamo ai romanzi di D'Annunzio e andiamo a delineare gli aspetti principali della terza fase i romanzi della terza fase sono Giovanni Episcopo che esce nel 1891 e L'Innocente che esce nel 1892 questa viene definita la cosiddetta stagione della bontà perché? perché D'Annunzio esplora dei motivi più intimistici quindi comincia a scavare sempre più in profondità nei personaggi e soprattutto diciamo dibatte e si dibatte in un certo senso tra la colpa in un certo senso anche tra l'attrazione verso la colpa verso il peccato e poi il successivo pentimento i modelli più importanti di questa fase sono senz'altro Tolstoi e Dostoevsky poi vedremo bene di quali romanzi parliamo i romanzi sono appunto Giovanni Episcopo e L'Innocente entrambi sono romanzi in cui è presente un delitto dei protagonisti e in entrambi anche un fortissimo senso di colpa che appunto poi diciamo sarà la caratteristica chiave dei romanzi stessi in particolare ricordiamo che nella dedica di Giovanni Episcopo che viene fatta alla scrittrice Matilde Serau D'Annunzio espone quelli che sono i principi del nuovo metodo di scrittura un metodo che deve essere più aderente al vero e soprattutto all'analisi introspettiva ricordiamo brevemente che in parallelo in questa terza fase per quanto riguarda la poesia D'Annunzio compone il poema paradisiaco che raccoglie liriche tutti quanti di tono sentimentale e malinconico torniamo però brevemente ai romanzi in particolare a L'Innocente e mettiamo in evidenza quali siano gli aspetti più importanti e dell'autobiografismo e diciamo così dei modelli letterari a cui D'Annunzio si rifà per quanto riguarda gli aspetti autobiografici ricordiamo che la separazione dalla moglie Maria Arduin era una separazione recente e quindi senz'altro nel rapporto tra Tullio Ormille e Giuliana si rivive un po' il rapporto tra D'Annunzio e la moglie una moglie che era stata più volte tradita così come Tullio tradisce Giuliana e una moglie che addirittura aveva tentato il suicidio per la disperazione di non essere amata da D'Annunzio ma è forte anche il diciamo la proiezione nel romanzo del suo rapporto con l'amante Barbara Leoni tra l'altro poi all'interno del romanzo vengono riportati interi passi provenienti dal carteggio privato cioè dalle lettere che D'Annunzio scrisse a Barbara Leoni anche l'episodio relativo alla malattia di Giuliana all'operazione ginecologica che Giuliana subì e agli stati di anemia a cui Giuliana era soggetta sono tutti elementi che D'Annunzio ricava dalle lettere scritte con Barbara Leoni perché lei stessa Barbara Leoni soffrì di questi disturbi e è molto forte inoltre la corrispondenza di Stati d'Animo tra Tullio Ormile e D'Annunzio perché anche D'Annunzio vive il senso di colpa nei confronti della moglie l'esaltazione nei confronti dell'amante e quindi appunto quest'altalena emotiva che senz'altro poi riverbera nel suo personaggio per quanto riguarda invece i riferimenti letterari che chiaramente non dobbiamo mai dimenticare senz'altro l'innocente risente fortemente di diritto e castigo di Dostoevsky sia per lo scavo psicologico del protagonista sia ovviamente per la conflittualità interiore che appunto diciamo è messa perfettamente in luce nei due romanzi e per questo pentimento fortissimo che appunto poi assale il protagonista dopo aver architettato appunto il delitto forte è anche però la risonanza dell'opera Sonata Kreuzer di Tolstoi in Sonata Kreuzer infatti si narra si racconta di un marito che uccide la moglie per gelosia quindi comunque compaiono degli aspetti vicini alla vicenda dell'innocente e poi ancora il dramma sempre di Tolstoi potenza delle tenebre in potenza delle tenebre invece compare il tema dell'infanticidio e quindi senz'altro è stato un modello importante per D'Annunzio non mancano però riferimenti al positivismo europeo e italiano per esempio l'approfondimento delle dinamiche psicologiche sappiamo bene infatti che il positivismo tendeva anche ad indagare diciamo le cause fisiologiche di determinati comportamenti forte l'influenza anche di Flaubert ricordiamo che abbiamo collocato Flaubert diciamo come precursore del naturalismo francese perché l'eco di Flaubert si risente soprattutto nel carattere cosiddetto borghese dell'ambientazione del romanzo e forte anche l'influenza di Zola che invece sappiamo essere un autore pienamente inserito nel naturalismo francese per la descrizione di Villa Lilla lui si rifà proprio ad alcuni passi di Zola interessante però sottolineare come nonostante il riferimento a Zola la descrizione dell'ambiente di Villa Lilla che è così articolato ed è così dettagliata è comunque una descrizione antinaturalistica quindi D'Annunzio riesce a trasformare in qualche modo il suo modello diciamo facendo sì che la sua descrizione lungi dall'essere una descrizione oggettiva in realtà sia una descrizione che rivela degli stati d'animo molto interessante anche la modalità della diciamo della narrazione dell'opera L'Innocente infatti è scritto in prima persona perché è un romanzo confessione fondamentalmente della colpa di Tullio Hermille tuttavia l'io narrante e l'io narrato vengono a coincidere in più punti tanto che il narratore possiamo definirlo pienamente un narratore onnisciente nonostante sia poi un narratore interno e quindi all'interno del romanzo ci sono continuamente delle diciamo dei passaggi tra il narratore interno e il narratore esterno sono ben tra narratore diciamo tra io narranti di un narrato e ci sono anche lunghe sequenze dialogate che rivelano in qualche modo quasi una visione esterna diciamo così della vicenda ora passiamo ancora avanti ed andiamo invece ad indagare la quarta fase della produzione d'Annunziana la quarta fase della produzione d'Annunziana è collegata alla lettura di Nice D'Annunzio scopre Nice in particolare scopre l'opera più importante di Nice più famosa di Nice diciamo meglio che è così parlò Zaratustra questo a partire dal 1892 D'Annunzio in realtà l'esse Nice interpretandolo in maniera molto personale e non riuscendo neanche fino in fondo poi a capire la profondità e la complessità di questo filosofo e quindi interpretò a modo suo questo super uomo di cui Nice parla quando parla appunto della morte di Dio quali sono le opere diciamo di questa quarta fase in poesia abbiamo le laudi su cui ci soffermeremo in maniera dettagliata in prosa la prima opera del cosiddetto superumismo è il trionfo della morte nel trionfo della morte il protagonista è Giorgio Urispa che è discendente da un'antica famiglia abruzzese è un esteta è un personaggio inquieto ed ama Ippolita Sanzio già all'inizio della vicenda viene narrato un suicidio perché appunto diciamo appare insomma si diffonde la notizia della morte per suicidio di un personaggio e quindi c'è subito un accorrere di persone e senz'altro questo suicidio anticipa poi quello che sarà l'epilogo del romanzo con la morte del protagonista i due si ritirano in un diciamo Giorgio Urispa e l'amante Ippolita Sanzio si ritirano in una in una villa e a un certo punto avviene una prima separazione di due amanti Giorgio torna presso la propria famiglia a Guardia Grele e qui diciamo che vive alcune situazioni di disagio innanzitutto il rapporto conflittuale con il proprio padre il quale è un personaggio abietto un uomo che tradisce la moglie quindi un personaggio malvagio poi viene a sapere della morte per suicidio dello zio Demetrio al quale invece Giorgio era molto legato perché rappresentava per lui un modello di riferimento e di nuovo torna con l'amante Ippolita diciamo che il rapporto con questa donna è un rapporto ambivalente lui viene attratto dalla sua passionalità dalla passionalità di questa donna dalla sua sensualità però nello stesso tempo poi la respinge e in questa fase diciamo in questa fase di crisi del rapporto sentimentale Giorgio Orispa inizia a leggere Nietzsche ed inizia ad ascoltare la musica di Wagner ricordiamo bene questi due riferimenti Wagner e Nietzsche perché saranno due riferimenti costanti in questa produzione diciamo così del superomismo d'Annunziano tuttavia nonostante Giorgio Orispa si identifichi in qualche modo nel superuomo Niciano egli non riesce ad essere diciamo a risolvere la propria crisi e quindi alla fine prevalgono in lui le forze distruttive e alla fine del romanzo lui si getta nel vuoto portando con sé anche l'amante Ippolita diciamo che il superuomo è un personaggio che al pari dell'esteta vive isolato non riesce quindi ad integrarsi nella società si sente superiore alle masse ma anche il superuomo d'Annunziano fatalmente rimane comunque sconfitto gli altri romanzi allora leggiamo brevemente quello che è diciamo l'introduzione al romanzo in cui dice chiaramente d'Annunzio noi tendiamo l'orecchio alla voce del magnanimo zaratustra o cenobiarca e prepariamo nell'arte con sicura fede l'avvento dell'Ubermensch del superuomo con queste parole ovviamente d'Annunzio esplicita chiaramente al lettore che il suo modello di riferimento in questo romanzo è proprio Nietzsche il Nietzsche di così parlò zaratustra l'interpretazione di D'Annunzio del superuomo diciamo è decisamente un'interpretazione personale e come dicevo appunto un'interpretazione assolutamente parziale anche piuttosto grossolana quello che D'Annunzio diciamo riprende e soprattutto ripeto riformula è l'idea che il superuomo coincida con l'artista perché l'artista desidera imporre la propria volontà di potenza sul mondo ma tuttavia l'artista D'Annunziano il superuomo artista D'Annunziano è destinato ad essere sconfitto soprattutto ad opera di donne che diciamo per la loro sensualità smascherano l'intinenza e la debolezza del protagonista stesso inoltre il superuomo D'Annunziano si identifica con il cosiddetto poeta Vate cioè con un poeta che sia una guida per il paese un poeta che viva una vita originale un poeta che propugni dei nuovi valori che debbano essere seguiti da tutti e un poeta che in qualche modo possa scandalizzare però nello stesso tempo anche incantare gli altri quindi diciamo un poeta che cerca senza altro la fama e la notorietà andiamo a vedere brevemente gli altri romanzi in particolare Le virgine delle rocce che è il romanzo in cui in maniera più piena diciamo così si dimostra quello che è l'idea del superuomo D'Annunziano il titolo è lo stesso titolo dell'opera di Leonardo da Vinci che è conservato all'ouvre il protagonista delle virgine delle rocce è Claudio Cantelmo il quale abbandona Roma disgustato dall'ansia di arricchimento e della speculazione di Lizia che appunto a Roma aveva trovato e quindi si rifugia nei possedimenti di un'antica famiglia aristocratica legata ancora alla fede borbonica qui cerca una donna che sia adatta a lui una donna con cui lui possa generare il futuro re di Roma quindi con cui possa generare un superuomo che possa salvare l'Italia dalle bastezze presenti incontra tre donne come lui le chiama tre vergini Massimilla Anatolia e Violanti che sono tre sorelle sono delle donne belle ma di una bellezza in qualche modo quasi sfiorita quasi appassita quindi questo è un aspetto decisamente simbolico tre sorelle che tra l'altro vengono indicate come se fossero diciamo così tre principesse d'accordo all'interno del loro castello e Cantelmo in un primo tempo sceglie Anatolia che però è destinata a badare alla madre che è inferma e quindi non può cedere all'amore e quindi poi si lascia incantare dalla bellezza sensuale di Violante che incarna proprio la donna fatale tuttavia il romanzo rimane aperto Danunzio in realtà aveva pensato aveva ipotizzato un ciclo di romanzi che poi però rimane incompiuto il romanzo ha come caratteristica chiave quella di diciamo alternare delle parti narrate e delle parti dialogate interessante in particolare la prima parte del romanzo in cui proprio in una grande diciamo in un impeto oratorio il protagonista Claudio Cantelmo si chiede quale sia il ruolo dei poeti e si risponde che senz'altro il ruolo dei poeti non è più quello di inneggiare alla diciamo alla politica o di inneggiare o di diciamo così innalzare determinati re o determinati personaggi politici il ruolo dei poeti come dice chiaramente Claudio Cantelmo è di difendere la bellezza dice infatti difendete la bellezza e questo è il vostro unico ufficio difendete il sogno che ha in voi perché oggi non più i mortali tributano onore e riverenza ai cantori all'unni della musa che li predilige come diceva Odisseo difendetevi con tutte le armi e pur con le beffe se queste valgono meglio delle invettive attendete ad inacervire con i più acri veleni le punte del vostro schermo fate che i vostri sarcasmi abbiano tal virtù corrosiva che giungano sino alle midolle e la distruggano quindi l'idea di fondo è che il poeta debba essere comunque un essere superiore che debba però diciamo ricercare la bellezza assoluta perché è l'unico antidoto contro la bassezza e la volgarità presenti ancora una volta quindi quest'idea del diciamo del superuomo in questo caso appunto poeta il quale si allontana dalle masse e si sente superiore ad esse ed infine andiamo a vedere un altro romanzo che è Il fuoco nel fuoco senz'altro ritroviamo moltissimo anche qua dell'autobiografismo d'Annunziano perché nel protagonista Stelio Efrona senz'altro possiamo rivedere D'Annunzio e nell'amante di Stelio Efrona Foscarina possiamo rivedere senz'altro Eleonora Duse che era una famosissima attrice tragica così come lo è Foscarina lo sfondo è una Venezia decadente diciamo che Stelio Efrona è tutto preso dalla sua arte tutto preso dalla realizzazione di un teatro dedicato ad Apollo e Foscarina è un amante una donna diciamo così un'attrice ormai matura che è totalmente diciamo dedita all'amore per Stelio Efrona compare però a un certo punto la bella Donatella che anche lei è un'artista e che incarna un po' il nuovo rispetto al vecchio rappresentato da Foscarina Donatella rinuncia però all'amore per Stelio per curare il padre malato ma Foscarina continua ad essere gelosa anche nel romanzo Il fuoco compare il personaggio di Wagner che è diciamo il mito in questo caso di Stelio Efrona e quando Foscarina rinuncia definitivamente all'amore per Stelio diciamo che a questo punto Stelio Efrona è preso completamente insomma dal suo ideale artistico e l'ultima scena del romanzo è il trasporto della bara di Wagner ormai defunto alla stazione di Venezia per portarlo appunto in patria diciamo appunto dopo la morte al fuoco diciamo poi l'ultimo romanzo che noi ricordiamo di cui non ho scritto è invece forse che sì forse che no e diciamo che dopo questa fase della produzione d'Annunziana le ultime prove di narrativa di D'Annunzio saranno quelle del Notturno che è un'opera invece completamente diversa non lo possiamo definire un romanzo ma ne parleremo in seguito lo definiremo un memoriale di D'Annunzio di D'Annunzio